Ingredienti timballo di riso venere con crema di pistacchio Timballo di riso di venere 500 grammi di riso venere 10 grammi di cipolla 100 grammi di pomodorini patino 8 asparagi surgelati 200 grammi di crema di pistacchio 50 grammi di grana 50 grammi di burro Olio cubi Sale e pepe cubi Preparazione timballo di riso di venere Lessate il riso in abbondante acqua Fate un soffritto con la cipolla tagliata sottile Scolate il riso e tostatelo nel soffritto di cipolla Aggiungete il brodo vegetale e regolate di sale e pepe A cottura terminata 15 minuti circa Versate il riso in stampini di alluminio e lasciatelo riposare Intanto versate in un pentolino la crema di pistacchio a aggiungere il burro Mischiate il tutto a fuoco basso Bollite i pomodorini e gli asparagi Impiattate versando nel piatto la crema Rovesciatevi sopra il timballo di riso Decorate con due mezzi pomodorini pelati e le punte di due asparagi Spolverizzate con un pio di grana e servite Grazie a tutti